Musica Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo tutorial oggi vediamo come installare il nuovo sistema operativo per Nexus 7 basato su Ubuntu ovvero come dice il nome Ubuntu OS che è stato rilasciato da poco tempo ed è supportato solamente per i tablet e i smartphone Nexus quindi è installabile sia su Nexus 7, su Nexus 10 e come smartphone su Galaxy Nexus e su Nexus 4 nel tutorial di oggi appunto vediamo come metterlo sul Nexus 7 la prima cosa da fare è mettere il root sul proprio tablet e onde installare una recovery modificata noi ovviamente già l'abbiamo fatto però se non avete il tablet con il root vi apparirà il link per andare al tutorial che vi spiega come fare dopodiché bisogna avviare la clockwork mod tramite il ROM manager e andiamo sulla seconda opzione ovvero riavvia in recovery dunque per effettuare questa installazione c'è bisogno anche di due file dei quali trovate il link in descrizione uno è sui 50 MB di grandezza e ha nel nome la dicitura grouper mentre l'altro è grande circa 400 MB e si contraddistingue con le ultime lettere che ha nel nome come phablet e ARM HF dunque si apre la nostra clockwork mod la prima cosa da fare è effettuare un wipe data factory reset quindi la terza opzione seguito da un wipe anche della cache dunque viene formattato il tutto i due file poi quelli scaricati entrambi sono dei file zip e non devono essere estratti devono essere messi come sono stati scaricati all'interno della memoria del tablet poi dopo aver fatto questo andiamo sulla seconda opzione ovvero install zip from sd card scegliamo la prima opzione choose zip from sd card e andiamo nella cartella dove abbiamo inserito questi due file questi due archivi zip dunque abbiamo il primo che prende il grouper mentre il secondo è phablet ARM HF dunque selezioniamo prima grouper e gli diciamo di installare e partirà la procedura di installazione in questo caso abbastanza rapida e poi installiamo anche il secondo archivio zip in questo caso l'installazione sarà un pochettino più lenta quindi noi facciamo un salto alla fine del procedimento dopo il riavvio ecco la schermata che ci appare abbiamo una barra delle notifiche come schermata di sblocco l'orario la data e poi c'è scritto 14 tweet ricevuti lo sblocco non è come al solito basta praticamente toccare trascinare in qualsiasi parte dello schermo bensì bisogna prendere la schermata e trascinarla verso sinistra e si apre il menu principale con alcune applicazioni tra cui quella per la fotocamera il browser gmail la galleria eccetera trascinando da sinistra esce il menu con tutte le applicazioni in stile ubuntu mentre andando a destra si scorre tra i menu qui sotto ci sono altre applicazioni praticamente e lo scorrere dei menu è evidenziato da una barra che è presente sul fondo dello schermo quando uno scorre la barra si evidenzia dunque c'è un menu per la musica un altro denominato people che è quello a destra a sinistra poi c'è quello centrale che è questo qui con la schermata home la schermata dedicata alle app e poi c'è quella dedicata ai video dove prende volendo si possono scegliere c'è questa schermata che ci permette di scegliere una serie di film per esempio qui abbiamo Skyfall di 007 e si può acquistare tramite amazon o noleggiarlo e poi c'è la descrizione con tutte le varie cose cliccando si torna indietro dunque come abbiamo visto l'installazione è molto semplice come al solito se avete delle domande e non avete capito qualcosa scrivete nei commenti nella pagina di facebook o sul profilo di twitter dei quali trovate il link in descrizione lasciate un mi piace e noi ci vediamo al prossimo video dove daremo un'occhiata a quello che è questo tipo di interfaccia e questo nuovo sistema operativo è stato un'occhiata che stai scegliere un'occhiata che stai scegliere Grazie a tutti.